Il comune taglia gli orari della Barili, voi non ci state, i studenti non ci stanno, cosa avete intenzione di fare? Avrete un po' un incontro con l'assessore Rodino. Allora, noi non ci stiamo no perché non è giusto che si taglia la cultura, non è giusto che si taglia quello che è il nostro diritto di studiare. E dal momento che la biblioteca Civica Barili è una nostra seconda casa, noi ci battiamo per tenerla aperta tutto il giorno, tutti i santi giorni. Ecco, questo è quello che ci preme. Ovviamente andiamo incontro alle varie esigenze, ovviamente capiamo la questione dell'organico, capiamo la questione dei tagli, però vogliamo appunto che la situazione venga risolta al meglio. Questa mattina vi siete riuniti, quali sono le idee che possono essere proposte all'assessore Rodino? Allora, sono state proposte idee a livello di modifica ulteriore degli orari della biblioteca, sono state proposte idee come posti e spazi alternativi che potrebbero essere adibiti allo studio. Abbiamo parlato anche della questione campus, i problemi del campus sono molteplici e quindi siamo un attimino fermi e attendiamo una risposta dall'assessore che avverrà nell'incontro dell'8 di gennaio. Al di là dell'incontro, dicevate prima, non accetterete nessun compromesso? No, non accettiamo compromessi perché non è una questione sulla quale accettare compromessi e quindi noi restiamo fermi sulle nostre idee e andiamo avanti.